Elisa Angius e Gabriel Rennis sono tornati insieme. Gabriel Rennis ha affrontato i borseggiatori. Cerchiamo, sto tipo cercando di scappare. Dico no no io non telefono, io non telefono. Siamo di fronte ad un racconto shock. Eravamo tipo un 200 persone a urlarti, a malatticurezza, alle guardie, mentre tenevamo un tocco a fermo. Ciao scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo, nuovissimo video dedicato al collegio numero 7. Elisa Angius e Gabriel Rennis sono tornati insieme. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un cazzo? Prima di iniziare però come sempre, vi ricordo se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per non perdervi tutto quanto gossip, drama e le ultimissime sul collegio 7. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Fabrizio Valerio ed ovviamente anche su TikTok dove sono sempre Fabrizio e Valerio. Ed eccoci qua ragazzi, nuovo video dedicato al collegio numero 7, nuove notizie super super shock che vi devo raccontare. Come avete letto sicuramente dal titolo di oggi parleremo di Gabriel Rennis, Elisa Angius e questo presunto ritorno di fiamma. Ma ci sarà spazio, ampissimo spazio, dedicato anche ad un... beh, come posso dire, ai borseggiatori della metro di Roma. E poi, anzi, inizieremo esattamente con questa notizia, parleremo di un'amicizia finita. Ricorderete tutti quanti Vittoria Lazzari e Giada Scognamillo. Queste due ex collegiali hanno un po' discusso e avevamo parlato del loro dissing a distanza nelle stories di Instagram in un video che se ve lo siete persi ve lo lascio qui nella i di informazioni. Oggi torniamo a parlare di Vittoria e Giada perché ci sono delle novità. Novità che riguardano in realtà una diretta, una diretta che proprio Vittoria Lazzari ha fatto per chiarire una volta per tutte quello che sarebbe il... beh, rapporto oramai finito al capolinea con Giada Scognamillo. Guardiamo insieme cosa ha detto Vittoria. Guardate. Lei ha litigato con una ragazza del collegio? Cioè, lei ha litigato con tanta gente dentro il collegio, ha litigato soprattutto con una persona e io sono andata contro tutti per lei e mi sono messa veramente tanto contro una ragazza là dentro. E poi lì, cioè, che infatti è l'unica con cui non ho chiarito e poi la Giada ha messo tipo che lei era più simpatica del collegio. Quindi io ho detto, cioè, io ci ho litigato per te perché lei ti andava contro e poi tu vai a dire che... Ho detto, guarda, non mi interessa la cosa. Tu dici così? Finita lì. Non mi interessa più di te, non mi interessa più della nostra amicizia. Quindi è nulla. Poi lei se l'è presa, mi ha mandato una frecciatina in cui fa tipo... La più ria. Le ho risposto. Poi però le ho risposto di nuovo e mi fanno tipo... Tanta gente mi ha scritto e mi ha detto, guarda, non gli dare hype. Non... Non entrare in queste bambinate, che cazzo mi frega, ho detto. Hai ragione. Quindi è arrivato. Che storia? Vabbè. Penso di che storia. C'è chi nei commenti di questa live e di questo TikTok ha detto, ma io non capisco niente, ma come parla questa Vittoria, bla 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 bla. Io ragazzi ho capito benissimo e diciamo che il messaggio crystal clear di tutta questa vicenda è che Vittoria e Giada in questo momento, per il momento, non si vogliono parlare. E che quindi questa amicizia è arrivata definitivamente alla fine. Quindi mettiamoci il cuore in pace e capiamo subito che Vittoria e Giada non torneranno ad essere amiche per il momento. Cambiamo invece completamente argomento e, come vi dicevo, parliamo della coppia con la C maiuscola di questo collegio numero 7. Elisa Angius e Gabriel Rennis, un amore tormentato, un amore fatto di alti e bassi, come abbiamo visto nei mesi scorsi, che era definitivamente finito alla fine del 2022. Inizio 2023 scoppia lo scandalo, bacio tra Elisa Angius e Davide Cagnes e poi tutto il resto è storia. Ma che cosa succede? Oggi siamo qui tutti riuniti per parlare di un presunto ritorno di fiamma. Prima però dobbiamo ricominciare e tornare sull'argomento partendo proprio da dove c'eravamo lasciati. Infatti che cosa succede? Partiamo da Elisa Angius. Elisa Angius, dopo la storia appunto con Gabriel Rennis, si è lasciata andare ad un bacio con Davide Cagnes. I due stanno insieme, non stanno insieme? No, non stanno insieme. Lei ce l'aveva detto in alcune stories, ma ad un certo punto, a grandissima sorpresa, Elisa Angius torna a parlare di amore e lo fa proprio nelle sue stories di Instagram. E in un selfie che ha pubblicato risponde alla domanda situazione sentimentale e dice presto lo scoprirete, al che ovviamente le persone super interessate alla sua nuova relazione dicono ma perché non ci dici che sei fidanzata? E lei dice non è che non voglio dirvelo, è che c'è un po' di differenza di età, ma con questa persona mi ci trovo molto bene, perciò state sicuri che a breve lo saprete. Ed in realtà poi, effettivamente, sui social Elisa Angius non ha condiviso nulla su questa nuova relazione. Quello che mi pare di aver capito dalle ultime stories che ha pubblicato e da alcune cose che ha messo nelle note di Instagram, pare proprio che questa relazione sia finita ancora prima di essere resa pubblica qua sui social. Ma parallelamente, come ben sappiamo, anche Gabriel Rennis aveva aperto nuovamente il suo cuore alla sua nuova mujer. Così l'aveva definita tra le stories di Instagram. Ma che cosa succede? Pare che anche qui l'amore sia arrivato al capolinea. Perché Galeotta fu questa storia pubblicata proprio da Gabriel Rennis che dice Capite bene che di fronte a queste sorte di frecciatine capiamo tutti che Gabriel Rennis forse non sta più con la sua mujer. Al che, ovviamente, noi qui, gente che spera, per citare l'articolo 31, ovviamente non vediamo l'ora di vedere ritornare insieme Gabriel Rennis ed Elisa Angius. E a questo proposito voi non siete pronti, perché tutto questo presunto ritorno di fiamma parte proprio da un TikTok condiviso da Elisa Angius. Oh mio Dio, sono super emozionated! Ed è questo il video in questione. Elisa Angius riporta le frasi di una notissima canzone in cui dice Tutto sembra andare veloce anche se Dimmi cosa resterà di noi cicatrici addosso come Sarà l'ultimo ricordo e poi svaniremo come fumo oramai Dimmi cosa resterà di noi E insomma capite bene che ci sono tutte le foto, i messaggi, qualsiasi Cosa che parla proprio di Gabriel Rennis E io credo che questo video però sia stato cancellato perché non l'ho più trovato Cioè meno male che l'avevo salvato ma è sparito? Boh... Beh a parte il mistero su questo video cancellato oppure no andiamo avanti Perché passano i giorni ed è San Valentino Ad un certo punto proprio Gabriel Rennis a grandissima sorpresa Pubblica questo video, video nel quale dice Perché porti ancora il suo elastico al polso se vi siete lasciati E dice per sempre una parte di me Scorrono tantissime immagini proprio in compagnia di Elisa Angius Al che nei commenti io scrivo Ma è un caso che insomma viene pubblicato proprio a San Valentino E oggi è anche San Valentino Ma c'è chi dice Non succede ma se succede E c'è il mi piace di Gabriel Rennis Ma non è tutto Qualcuno dice Vi rivoglio insieme E c'è sempre il mi piace di Gabriel Rennis E poi Io però volevo un ritorno E Gabriel risponde con E chi te lo dice che non potrà esserci? Cosa stiamo guardando? Ragazzi io non sono pronto a questo ennesimo ritorno di fiamma Eh? Cos'è? Cosa? Questo però non è l'unico video di Gabriel Rennis Dedicato alla sua ex fidanzata Elisa Angius Infatti passa una settimana e Gabriel condivide questo video Video nel quale dice Gabriel perché spesso fissi il vuoto? E la risposta è molto molto semplice Scusate che è basso Ed è proprio lei Elisa Angius Quindi credo Non lo so ragazzi ma il sottone in questione Forse potrebbe essere proprio Gabriel E vuole tornare con Elisa Angius Non lo so da quello che ho capito Come dire Guardando delle dirette Carpendo qualcosa I due potrebbero vedersi Forse Forse Ad un altro compleanno di qualcuno Non lo so Ma insomma staremo a vedere Quello che succederà per il momento Io onestamente incrocio le dita E come tutti quanti voi Immagino Spero 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 In questo ritorno di fiamma Adesso Voltiamo nuovamente pagina E parliamo di ciò che è accaduto in questi ultimi giorni Gabriel Rennis Ci ha letteralmente scioccati Ci ha lasciati a bocca aperta Pubblicando inizialmente un annuncio Nelle sue stories In cui parla addirittura di borseggiatori Di ladri Infatti tutto parte da una storia Che condivide proprio su Instagram In cui dice Il trasporto pubblico in Italia Fa veramente schifo Oggi delle povere ragazze Sono state derubate davanti Anche ai miei occhi E il pronto intervento È andato a farsi fottere Abbiamo dovuto mettere le cose a posto noi Domani vi racconto tutto Sono senza parole E così passano le ore E il giorno seguente Gabriel Rennis Ci racconta per filo e per segno Cosa è successo Questo dramma Avvenuto in metropolitana A Roma Dove delle ragazze Sono state derubate Di fronte ai suoi occhi Ma fortunatamente Due dei suoi amici Sono intervenuti Tempestivamente Contro i ladri in azione Guardate Ragazzi buongiorno Io mi sono praticamente Appena svegliato Come penso si vede E ora voglio un attimo Raccontarvi quello che è successo Quel giorno lì Della metro Due giorni fa Praticamente Ero con due Due miei amici A Roma E avevamo appena finito Di registrare un po' di video Per TikTok E avevamo appena finito Di farlo Con un gruppo di ragazze Che poi è salito Un metro con noi Eravamo esattamente A Barberini In pratica Cosa succede Non schifo Raga I soliti Borseggiatori Che non posso vedere Qui Mette i piedi Sulla metro Mezzo secondo E riscende subito E raffolatissimo Di gente Non si capiva Nulla Vabbè Insomma Sto qua Che fare Tempo di salire Sua metro Mezzo secondo Sfilagli al telefono Dalla tasca Una delle ragazze Con cui abbiamo appena Appunto registrato Un video Scene dalla metro Nel frattempo Le portiere della metro Si chiudono Quindi lui era fuori Dalla metro E noi tutti quanti Dentro la metro Con un affolamento Che neanche vi dico Allora Iniziamo a battere Perché la ragazza Si accorge di non aver il telefono Iniziamo a battere Sui vetri della metro Urlando tutti quanti Fermo Fermo La metro non si ferma Di striscio Magari non l'avranno sentito Non lo so Allora I miei due amici Hanno avuto Il riflesso Entrambi De abbassare la leva Quello là D'emergenza La portiera Si apre a metà Forzandola Riusciamo a uscire Questo mio amico Che è alto praticamente Due metri Due metri Dieci Lo rincorre Lo acciuffa da dietro E ovviamente Nel frattempo Scende tutta quanta La gente La ciuma di gente Che c'era sulla metro E che succede Che sto schifo D'uomo Regà Lo robiamo In se san quanti Saremmo scesi In Cento Duecento persone Come minimo Allora nulla Tipo Lo acerchiamo Sto schifoso Cercava di scappare Dicevano No no Io non telefono Io non telefono Tutto un po' Rito Perché regà Penso veramente C'è Un duecento contro uno Regà Vabbè Che vuoi di caffa E Allora Sto schifoso Continuo a negare Che non c'era nessun telefono Cerca di scappare Allora Gli fanno un po' Una cerchia Regà Sapete Proprio Le chiuse Che non te puoi muove Allora Finalmente Da il telefono Nel mentre Ancora prima Avevamo chiamato La sicurezza Ma proprio Tipo Dieci minuti prima Tutti a urlare Sicurezza Sicurezza Mentre che Lo teniamo fermo Bloccato La sicurezza Assolutamente Non è arrivata A barberini Poi che Non me ne voglia Chi è adeguata La zona Regà Ma sapete che Non è una zona Popo Top Anzi Quindi niente Per chiude Tavamo tipo Un duecento persone A urlare Chiamare la sicurezza Le guardie Mentre teniamo Il suo qua fermo Nessuno Si è degnato Di venire O meglio La sicurezza È arrivata Dopo che Abbiamo lasciato Andare questo qui Perché aveva appunto Riconsegnato il telefono Alla ragazza Quindi per farvi capire Cioè Uno poteva benissimo Morire Facendo le corna E la sicurezza Erebbe arrivata Dopo proprio Direttamente al funerale Quindi pensate Che schifo Poi però dopo Abbiamo scoperto Che dall'altra parte C'era una ragazza Americana Che poverina Stava piangendo Perché non si trovava Il telefono E probabilmente Ce l'aveva questo qui Ma nessuno Se ne era accorto Quindi ormai L'avevamo bello Che lasciato andare Sto schifoso Perciò Regà Nulla Statevi sempre attenti Mi raccomando Perché un attimo E veramente Ve si fanno il telefono Non so cosa Cose vostre Private Dei personali Quindi date sempre O meglio Di essersi trovata Di essersi trovata Senza telefono Perché era stata derubata Da una persona Che entrando in alcuni Ristoranti Bar Eccetera Eccetera Con un foglio Che mette sul tavolo Ti ruba Ciò che hai Appunto di fronte a te Sul tavolo In quel caso Ha trovato il suo telefono Quindi Stiamo molto attenti Difendiamoci Se possiamo Non sempre È la scelta giusta Quella di intervenire In prima persona Perché non si sa mai Dall'altra parte Che c'è Ricordate sempre Che queste persone Sono persone Malintenzionate Malviventi E potrebbero avere Dei coltelli Insomma Delle armi Da usare contro di voi Quindi La massima cautela Certo Non dobbiamo farci derubare Da niente Da nessuno Questo Sicuramente Però al tempo stesso Stiamo attenti Per la nostra Incolumità Detto questo Bravo E il bravo I suoi amici Che sono intervenuti E sono riusciti Sostanzialmente A fare qualcosa A salvare il salvabile Detto questo Adesso fatemi sapere voi Qui sotto nei commenti Cosa ne pensate Il video può finire qui E spero tanto Che vi sia piaciuto E se è così Lasciate un bel pollice in su Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E qui sotto Trovate tutti i miei social Dove potete seguirmi Yeah Mark Vi salutiamo E noi ci vediamo In un prossimo video Vero Mark Vai Saluta Mark Vabbè ragazzi Anche oggi Noi ci abbiamo provato Ciao Ciao